Ciao a tutti ragazzi, qui è sempre MyG98 Allora, faccio questo breve video di tipo un minuto perché riguardando... Allora, ho guardato tutto il video di prima, prima di inviarlo a YouTube però poi mi sono accorto che gli ultimi 5 minuti non si vedevano quando il video era già scaricato da YouTube, era già stato inviato Allora, adesso vi farò vedere l'albero terminato Perfetto, hanno comunque potuto vedere Allora, il tronco è ripieno, è ripieno E tutto quanto è pieno di luci Poi qui ci sono delle... Delle porte senza spettacolo Così, così Per dare un po' di culpo, diciamo Comunque è stato molto bene Ci ho messo tipo... Non due, no? Però tipo... 10 minuti è finito E quindi... Mi sono impegnato davvero molto E ho detto non ho potuto fare con Glowstone Ho potuto fare con Glowstone cose varie perché appunto Glowstone cose varie perché ancora Essendo a due puntate non sono andato nel banner Ho preso vari strumenti, vari materiali Ma per ora la chiamatriston Poi vi faccio vedere da qui E qui ci chiudiamo Cioè, è bellissimo Cioè, aggiungeremo dell'olana colorata Ah, e poi usato questa lana verde Per poter posizionare le torce lì vicino Va bene, spero che di questi due video vi abbiano piaciuti Qui da il 2598 Ciao a tutti Ciao a tutti